Buongiorno ragazzi, questa è la prima lezione che facciamo tramite il PC, esperimento, esperimento per me e per voi, speriamo che la cosa possa dare profiguo i risultati. L'ultima volta ci siamo lasciati parlando della robustezza e della struttura delle ossa. Abbiamo visto che le ossa sono di tre tipi fondamentalmente, quindi possono essere considerate delle ossa piatte, delle ossa lunghe o delle ossa corte, altrimenti dette breve. Le ossa piatte sono quelle caratterizzate da avere due dimensioni molto sviluppate ed una molto piccola. Tra queste ricordiamo quelle del cranio, lo sterno oppure quelle del centro pelvico. Le ossa lunghe invece sono quelle caratterizzate da avere una dimensione molto più grande rispetto alle altre dimensioni. La lunghezza è molto maggiore della larghezza dello spessore. Tipiche ossa lunghe sono per esempio quelle degli arti inferiori o quelle degli arti superiori, femore, tibia, perone, radio, ulna e le dicende. Le ossa brevi invece sono quelle in cui le tre dimensioni hanno più o meno la stessa lunghezza. Per esempio sono ossa brevi quelle che costituiscono le dita delle mani o anche quelle che costituiscono le vertebre della spina. Abbiamo visto che le ossa sono strutture molto robuste del nostro corpo e guardandole in sezione possono essere separate in tre parti. La parte più esterna detta periostio, che vedete qui seguite la mia manina, in cui sono presenti tantissime cellule dette osteoblasti che servono a riparare proprio le ossa. C'è poi uno strato che è detto strato compatto, che è quello più robusto delle ossa, che vi ho detto già serve per attutire e proteggerci dai colpi subiti dall'esterno. Nella parte ancora più interna troviamo il tessuto spugnoso, che è caratterizzato, come dice la parola stessa, da un enorme quantitativo di cavità. Queste cavità alleggeriscono il peso delle ossa, non ne disturbano la robustezza e consentono anche la possibilità di ospitare il midollo. Il midollo che abbiamo detto può essere all'interno delle ossa di due tipi, o il midollo rosso, o il midollo giallo. Il midollo rosso è prevalentemente presente all'interno delle ossa piatte, serve a produrre le cellule del sangue, piastrine, globuli rossi e globuli bianchi, mentre il midollo giallo è contenuto prevalentemente all'interno delle ossa lunghe. Il midollo giallo, che è fondamentalmente costituito da riserva di grasso, però in alcuni casi, quando la necessità lo impone, può anch'esso produrre i globuli rossi. Esclusivamente i globuli rossi, però. Piastrine e i globuli bianchi sono deputati esclusivamente al midollo rosso. Abbiamo cominciato a guardare anche le ossa del cranio. Il corpo umano, l'abbiamo già visto, può essere separato in tre parti, testa, tronco e arti. Allo stesso modo si può fare per le ossa. Abbiamo già dato un'occhiata alle ossa principali del cranio. Non mi ci soffermerò oltre, perché ne abbiamo già viste con il caro Valerio. Diamo un'occhiata a quelle del tronco e quelle degli arti. Quelle del tronco sono costituite prevalentemente dalla spina dorsale. Spina dorsale che è una struttura in cui le ossa sono a stretto contatto fra di loro. Queste ossa si chiamano vertebre. Le vertebre hanno la particolarità di avere al loro interno un canale, un'apertura, che è il canale vertebrale, che ospita il midollo spinale. Midollo spinale che è diverso dal midollo che si trova all'interno delle ossa, perché il midollo spinale è a tutti gli effetti un prolungamento del nostro cervello, quindi del sistema nervoso centrale. Le nostre vertebre sono divise in quattro parti. Quelle cervicali, quelle dorsali, quelle lombari e quelle sacrococcigie. Le sacrococcigie sono il ricordo, diciamo così, qualcosa di vestigiale che un tempo costituiva la nostra coda. In tutto le vertebre sono 33 o 34, alle volte anche 35. Perché la differenza di numero? Perché possono cambiare il numero di quelle proprio sacrococcigie, quelle coccigie. Un'altra particolarità delle vertebre è il fatto che le vertebre cervicali, vi ricordate che vi ho detto che la prima si chiama Atlante, perché come Atlante sorregge nel mondo sorregge il nostro cranio, le prime, le vertebre cervicali sono 7 e, particolarità strana, sono 7 per tutti quanti i mammiferi. Tutti i mammiferi possiedono 7 vertebre cervicali. Le altre ossa che compongono il tronco sono fondamentalmente costituite da le costole che servono a contenere, che costituiscono la gabbia d'oraci, che servono a contenere gli organi importanti, i bolmoni e il cuore fondamentalmente, tenute insieme da un osso piatto chiamato sterno. Lo sterno, insieme con la spina dorsale, contiene le costole. Le costole quindi sono attaccate sia davanti allo sterno che dietro alla spina dorsale. Tutte, tranne le ultime due coppie, dette costole libere o fluttuanti, che sono agganciate esclusivamente alle vertebre, quindi alla spina dorsale. Non sono agganciate allo sterno. Questo consente a queste costole di potersi allargare e stringere, permettendo a noi di respirare. Altrimenti sarebbe praticamente impossibile farlo. Le ossa degli arti le abbiamo già viste, sono costituite da clavicole e scapola, gli arti superiori, il braccio costituito dall'omero, l'ombraccio radiulna e poi il carco, metacarto e falange. Stesso discorso per le ossa degli arti inferiori, ossa dell'anca costituite dalla fusione di tre ossa diverse, che sono ilio, ischio e pube, femore, che è l'osso più lungo di tutto il corpo umano. La rotula, che è quest'osso che è presente nel ginocchio, che serve ad impedire alla nostra gamba di andare oltre una certa estensione. Serve proprio da impedimento, da cerniera. Ricordiamoci questa parola perché fra un po' la rincontreremo. Poi ci sono tibie perone e le ossa del piede, che invece di essere metacarpo e falangi sono tarzo, metatarzo e falangi. Proprio per distinguere da quelle degli arti superiori. Ossa molto particolari sono i denti. I denti vengono cambiati nella vita due volte. La prima dentizione, che è detta dentizione da latte o dentizione decidua, è costituita esclusivamente da 20 denti. 20 denti che noi perdiamo e diciamo che intorno ai 12-13 anni di età ci ritroviamo tutti quanti con i denti definitivi, che sono detti denti permanenti. Sono inizialmente 28, a cui si aggiungono poi altri 4 denti che crescono, altri 4 molari, quindi che crescono sul fondo della nostra bocca, che sono i detti denti di giudizio. Abbiamo già parlato del motivo per cui esistono i denti del giudizio. In tempo non ci lavavano i denti e quindi avere ad un certo punto dell'età dei denti in più che potessero sostituire quelli che cadevano per via delle carie era fondamentale per poter vivere. Ora questa cosa non è più così strettamente necessaria perché la nostra igiene dentale ci consente in molti casi di portare i nostri denti fino alla fine della nostra vita. I denti si distinguono a seconda della loro forma e quindi come già detto la forma ne determina la funzione. Abbiamo 4 incisivi, questo vale sia per la mandibola che per la mascella. Ricordo a tutti che la mandibola è l'osso che si trova sotto, mentre la mascella è quello che si trova sopra. Ci sono come detto 4 incisivi, 2 canini, il fatto di possedere i canini ci distingue da altri esseri viventi, e altri mammiferi e indica il fatto che la nostra dieta sia anche carnivora. Abbiamo due premolari da una parte e dall'altra, quindi una coppia di premolari e poi i tremolari da una parte e dall'altra, quindi 3, 6 più l'arcata superiore di eccolo. Il dente è costituito fondamentalmente da tre strati. Tre strati andando dall'esterno verso l'interno e da tre parti andando dalla parte alta verso il basso. Guardando dall'alto verso il basso abbiamo la parte che si vede, che è detta corona dentale, poi c'è la parte in cui il nostro dente si unisce alla gengiva, che è detta colletto, e poi la parte interna che noi non vediamo, che è costituita dalla radice del dente, che è la parte che si inserisce nell'osso del cranio, osso macellari o mandibolare. Facendone una sezione invece dall'esterno verso l'interno, noi abbiamo lo smalto, abbiamo la parte interna che è costituita da una sostanza che si chiama dentina, al cui interno c'è la polpa, dove ci sono i vasi sanguigni e soprattutto i nervi. Lo smalto è a tutti gli effetti la parte più dura di tutto il nostro corpo, ed è per questo che è stata, viene utilizzata proprio per i denti. Abbiamo parlato anche delle articolazioni, abbiamo detto che le articolazioni si dividono in tre tipologie, quelle che sono mobili, le semimobili e quelle che invece sono fisse. All'interno di quelle mobili esistono diversi tipi di articolazioni, perché per esempio l'articolazione del ginocchio, come detto in precedenza, è un'articolazione detta cerniera. Questa articolazione cerniera è fatta in maniera tale che ci sia un vincolo che impedisca il movimento a 360 gradi. In questo caso il vincolo è costituito da questo osso piccolino che si trova sul ginocchio, che abbiamo detto si chiama rotula. Le articolazioni sferiche, come per esempio quella della spalla e quella dell'anca, consentono un movimento ampissimo. Le articolazioni semimobili sono invece quelle in cui la mobilità di un osso rispetto all'altro è molto limitata. Quelle delle dita di piedi, per esempio, o quelle delle vertebre della nostra spina torsale. Le articolazioni fisse invece sono le articolazioni in cui non c'è più possibilità di movimento. In questo caso le articolazioni prendono il nome di suture. Classiche suture sono quelle del cranio, ma anche quelle delle anche, abbiamo detto, sono, diciamo così, consolidate tra di loro. Come funzionano le articolazioni? Le articolazioni sono costituite fondamentalmente dalla presenza di legamenti, che sono dei fasci che servono a tenere insieme le ossa, altrimenti le ossa si sposterebbero le una dalle altre, e tra un osso e l'altro la presenza di un menisco, cioè di un cuscinetto di cartilagine, al cui interno, oltre che il cuscinetto di cartilagine, si trova un liquido che è chiamato liquido sinoviale, che impedisce alle due ossa di entrare in contatto, quindi di regalarci dei dolori lancinanti, ma consente anche, come lubrificante, il movimento stesso delle ossa. Quindi, che impediscono alle ossa di spostarsi le una dalle altre, abbiamo i legamenti, e che invece consentono il movimento senza dolore, abbiamo i menischi, cioè questi quantitativi di cartilagine uniti al liquido sinoviale, che consentono il movimento delle ossa. Diamo un'occhiata velocemente a come è fatto il nostro sistema muscolare. Il nostro sistema muscolare è costituito da circa 650 muscoli. Questi muscoli sono in grado di muoverci, consentono il movimento di tutte le nostre parti del corpo. Oltre a consentire il movimento, in alcuni casi servono anche da protezione, perché, per esempio, gli addominali servono come protezione degli organi interni, oltre che consentire il movimento del busto. I muscoli sono di tre tipi, muscoli scheletrici, muscoli cardiaci e muscoli sci. Perché questa distinzione? È una distinzione legata alla loro funzione. I muscoli scheletrici sono tutti quanti volontari e consentono a noi il movimento. Voglio muovere una mano, voglio muovere un piede, voglio alzarmi dalla sedia, voglio parlare. Tutti questi si chiamano muscoli scheletrici. Il muscolo cardiaco, invece, è un muscolo che funziona. Tutti i muscoli scheletrici, scusate, sono striati e sono volontari. Il muscolo cardiaco, invece, è del tutto il volontario. Io non posso decidere di smettere di battere, di far battere il cuore. Funziona per conto proprio ed ha una struttura che somiglia molto a quella striata dei muscoli scheletrici, anche se con qualche piccola differenza. Infine, ci sono i muscoli lisci che controllano movimenti che io non voglio e non sono in grado di controllare. Per esempio, io non posso controllare il movimento del mio intestino, non posso controllare il movimento del mio esofago o del mio stomaco. Sono tutti muscoli volontari e sono tutti quanti lisci. i muscoli funzionano attraverso un carburante. Questo carburante si chiama ATP. L'ATP viene sintetizzato all'interno delle nostre cellule dai piccoli organi che si chiamano mitocondri. I mitocondri sono a tutti gli effetti le centrali di produzione dell'energia dei nostri muscoli. I muscoli funzionano con ossigeno e glucosio, che è zucchero. Questa è la prima nostra lezione. Ci fermiamo qui. Ve ne manderò fra poco un altro video con il continuo della lezione. A fra poco. Grazie.